Ritorna dall'orchestra di Maurizio Guzzinati, Enrica Voice, anche lei, una voce straordinaria per presentarci questo Ti amo davvero. Sarà quel tuo dolce sorriso che mi illumina il viso quando sono con te. Sarà quel tuo sguardo intrigante che mi nebri a la mente quando parlo con te. Credo di essere innamorata, sento un gran brivido addosso e non l'ho avuto mai. Io, io ti amo davvero. Voglio ascoltare il mio cuore impazzito per te. Vuoi sfiorarti i capelli, sussurrarti che al mondo sei l'unico uomo per me. Sarà quel tuo modo di fare che mi fa innamorare ogni giorno di più. Sarà che mi manca il respiro che non mi sembra vero quando sto insieme a te. Ora, voglio dirti una cosa, ho voglia di far l'amore per ore con te. Io, io ti amo davvero, voglio ascoltare il mio cuore impazzito per te. Puoi sfiorarti i capelli, sussurrarti che al mondo sei l'unico uomo per me. Puoi sfiorarti i capelli, sussurrarti che al mondo sei l'unico uomo per me. Puoi sfiorarti i capelli, sussurrarti che al mondo sei l'unico uomo per me. Erika Boyce! Grazie, gentilissimi, grazie! Sai io come ti definirei? Mi dica. La voce melodica all'italiana, al femminile. Grazie, Mara, grazie, gentilissima, detto da te poi. No, no, veramente eccezionale, mi piace molto. Grazie. Complimenti di cuore. Grazie cara. A dopo. Enrica! Grazie. 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 Grazie.